se mi permettete prima di incominciare vorrei chiarire due o tre concettini allora uno è quello appunto che si parla tanto di questa sensibilità sugli alimenti, test delle tolleranze. Allora se questo è l'umo intestinale, questo è il sangue, quando facciamo questi test di tolleranze ci trovano che produciamo anticorpi specifici contro la proteina A dell'alimento A, ok? Però questo, illustrissimo, però questo chiaramente non può essere vero perché solitamente le proteine contenute nei alimenti sono proteine molto grandi, pertanto che io abbia una membrana intestinale molto bucarellata, una proteina di queste dimensioni nel sangue non ci arriva, sarei già morto prima. Se tutto procede normalmente io demolisco questa proteina A fino alla dimensione A1 che riesce a passare, ma il mio sistema immunitario non vede che cos'è, vede solo la dimensione, siccome è piccola non si attiva, quindi se questa proteina alimentare mi entra con le dimensioni di A1 non mi attiva il sistema immunitario. Se mentre la sto demolendo e sono arrivata da A2, questa riesce a entrare perché qua ci sono dei buchi, allora contro questa proteina A2 il sistema immunitario giustamente dice che questo affare qui non ci deve essere, è attiva degli anticorpi, all'inizio a specifici, poi io continuo a mangiare l'alimento A, a un certo punto il mio corpo memorizza degli anticorpi specifici contro A2, che non è né A né A1, perché A1 non avrebbe stimolato il sistema immunitario. Come però io, quando io faccio questi test, io li faccio su una serie di proteine, cioè io faccio una domanda, gli dico anticorpo contro A2, C6 e lui dice presente. Quelli che non testo, non so se non ci sono oppure no, io non li faccio la domanda. Come A2 è riuscito a entrare? Se io ho un intestino permeabile, ci sarà un B2, un C2, un D2, cioè c'erano tantissime che entrano, quindi solitamente per questi test mi danno che io produco anticorpi specifici contro frazioni di proteine troppo grosse, clandestine, che non dovevano entrare, di alimenti che o se ultimamente mangio. Se io non risolvo la permeabilità intestinale, le modifico alla mia dieta e comincio a rintrodurre alimenti diversi che prima non mangiavo, dopo un po' il mio corpo mi dice, guarda, io ti sto producendo anticorpi specifici contro altre frazioni clandestine che non dovevano entrare. Quindi questi test di intoleranza dicono ben poco. Si risolve tutto quando io chiudo questa porta d'ingresso. Allora, anche se ho memorizzato anticorpi specifici contro A2, ma li impedisco di entrare, e mi entra come A1, il mio sistema immunitario non si attiva. E oggi le persone celiache che sono riuscite a mangiare glutine tranquillamente non producono più anticorpi contro glutine, contro la gliadina. Ma questo non è una cosa che deve stupire, perché non erano mai stati prodotti contro la gliadina. Erano stati prodotti contro una frazione troppo grossa della gliadina che riusciva a entrare prima di essere completamente demolita. Ecco, un'altra cosa che è venuta fuori. Allora, cambio foglio. Come sempre le idee iniziali sono sempre molto banali e diventano complesse e via via si fa avanti. Quindi l'idea del serplus iniziale era molto banale, era di aumentare la serotonina del cervello. Coglio e Fenster poi hanno dimostrato che è veramente capace di farlo. Ma da lì poi sono andato avanti e ho capito le azioni a livello intestinale. L'abbiamo iniziato gli studi sull'epilessia, dove in effetti anche lì qualche volta ha dato delle risposte un po' strane, cioè modifica del tipo di crisi, peggioramento iniziale delle crisi. C'è anche nell'epilessia che avevamo avuto qualche problema, ma niente a che vedere quando poi avevamo steso l'applicazione di questo serplus in patologie intestinali autoimmuniche, che era come dice Alessio Fasano, partono tutto da un'elevata permeabilità intestinale. Lì all'inizio può succedere di tutto. E allora io ho cercato di capire perché. Perché quel concetto che viene molto riportato su Facebook, che bisogna prima essere fustigati per poter guarire, a me non mi convince più di tutto. Allora, a livello diciamo di amminoacidi, noi sappiamo che l'alfalatomina riduce la disbiosi, quindi riduce le decarboxilazioni di amminoacidi che sono precursori di importanti neurotrasmettitori cerebrali. Se prendiamo quella del tritofano, noi questo è un amminoacido che richiamiamo solo dalla dieta, e che è una flora disbiotica eccessivamente ci butta via nidolo e scattolo. L'alfalatomina riduce questo spreco, per cui io cosa ho? Che a un certo punto il mio tritofano nel sangue sale. Aumenta perché io non lo butto più nella spazzatura. Il tritofano è un amminoacido che ha mille ruoli nel nostro corpo. È il precursore della serotonina cerebrale, che è quello che a me interessava, ma anche il precursore della serotonina periferica. Controlla la morte per apoptosi, delle cellule, per esempio quelle tumorali, cioè il processo di apoptosi cellulare controllato dal tritofano, controlla il sistema immunitario. Quindi fa tantissime cose, ma la sua destinazione più importante per il nostro corpo è quella di andare a produrre la niancina. Questa molecolina qui serve per la respirazione cellulare. Quindi, questa è una strada obbligatoria, molto importante per me, di utilizzo del tritofano, perché se ho meno serotonina nel cervello diventa ansioso, ma se mi manca la niancina muoio. Per cui, quando incomincio ad avere meno tritofano, il mio corpo la destina principalmente ha la produzione di niancina. Chi controlla, diciamo, quanto tritofano deve andare su questa strada e quanto per il resto, è un ormone che si chiama, accidenti, che ho vuoto in memoria, cortisolo, ormone dello stress. Ok? Questo è il dirottatore, cioè decide quando il tritofano va in questa strada e quando va per tutto il resto. Persone che hanno elevati livelli di cortisolo, depressi, per esempio, cosa succede? Che quando io gli aumento di colpi di tritofano, ne mandano tanto su questa strada. E per arrivare a qui c'è un intermedio che si forma che sono i santurenici. Allora, se ho un paziente, una persona con elevato livello di cortisolo, gli aumento velocemente il tritofano, molto andrà per produrre il niancino, ma mi aumenteranno questi santurenici che se superano valore soglia si attivano dei trasportatori al cervello. Cioè, di solito non dovrebbero entrare nel cervello, se però aumentano tanto riescono ad entrare e sono neurotossici. Quindi sono tutti i responsabili di tutto il peggioramento sul dolore, hanno un'azione proconvulsiva, cioè queste molecole qui per il nostro cervello sono veramente devastanti. Però c'è un certo nutrizionista olandese, Marcus, che riporta che l'alfa-lata albumina riesce a ridurre il cortisolo. Il cortisolo è quello che ci permette di rispondere allo stress. Quindi nel soggetto normale è solitamente praticamente zero, dopo uno stimolo stressogeno c'è un picco di cortisolo così. Questa persona qui ha superato la gente stressogeno senza danni. Invece i soggetti cosiddetti vulnerabili allo stress sono soggetti che partono da un livello più alto di cortisolo quando devono dare una risposta danno un picchettino così e questi sono vulnerabili allo stress. Quindi questo che ha fatto questo andamento qui è quello che vicino a voi su un altro movimento di punta voi gli pestate un piede e rischiate un pugno come reazione all'aggressione che gli avete fatto. Questo è il monoco tibetano che gli pestate il piede e vi sorride. La gente è stressogeno lo stesso ma la risposta è diversa. Quindi siccome noi andiamo a parare a proporre il surplus a persone che molto probabilmente hanno un cortisolo elevato all'inizio bisogna impedire che aumenti troppo velocemente se no questo crea un problema. Se associamo il surplus a un protocollo alimentare che è stato studiato apposta per farlo funzionare di più questo problema diventa ancora più probabile perché io lo metto in condizioni di lavorare meglio. Ora che ho finalmente tolto il fruttosio che proprio non volevo metterci avevo stato costretto perché la steve era stata vietata dicendo che era cancerogena che è un frutto oligosaccaride cioè era demenziale dirlo però non si poteva usare. Ora che ho tolto la parte infiammante che era nella vecchia formulazione la nuova formulazione è ancora molto più efficace però può dare ancora più problemi della vecchia. Quindi nell'uso ci siamo accorti che questo integratore può dare all'inizio veramente dei grossi problemi. Adesso un primario di Genova mi ha dato 10 pazienti cioè in uno studio molto banale però tanto per incominciare l'ho accettato 5 donne con il lupus e 5 donne con l'artrite romatoide seguite da 30-40 anni da questo centro quindi di nuova diagnosi. In due mesi hanno tutte avuto dei miglioramenti favolosi ma 4 su queste 10 hanno avuto un peggioramento così iniziale dei sintomi che i loro mariti dicevano smettere di usare questo protocollo demenziale ma chi te l'ha detto di farlo veramente quello è lì un pazzo perché stai malissimo nonostante questo poi sono riuscito a dare un miglioramento come non avevano mai raggiunto. Quindi usare il SERPLUS soprattutto la nuova formulazione e associandolo a un protocollo che aumenta la sua azione bisogna farlo con le pinze pronte a intervenire perché questa persona qui può dare delle risposte veramente casuali e con aggravamento anche dei sintomi quindi che poi perde la fiducia anche chi gliel'ha proposto e dice ma io SERPLUS non vorrò mai più prendere in vita mia ok? Però soprattutto c'è gente che può anche denunciare e siccome è quello che andiamo a dire noi SERPLUS fortemente rivoluzionario un protocollo dove andiamo a dire di aumentare il burro che oggi è demonizzato cioè tutto quello che noi andiamo a proporre si va a mettere in contrasto con quello che solitamente viene consigliato facciamo la figura dei Don Quixote dei folli di quelli che non ha capito niente che propongono cose oscene quindi bisogna andarci molto cauti e quindi soprattutto è questo nelle persone che hanno grossi problemi intestinali che magari hanno fatto per anni dieta privazione che non hanno fatto ulteriormente indebolire questo loro sistema intestinale bisogna proprio all'inizio andarci con piccole dosi e seguirli piano piano se no possono succedere dei veri problemi e questo diciamo a me proprio parla dal punto di vista commerciale che nessuno più mi utilizza il SERPLUS ma però non si riesce a ottenere un risultato clinico voglio dire che è la cosa che poi penso vi interessa di più perché ci mettete anche la vostra faccia voglio dire quindi la fiducia del paziente se quello sta ancora peggio vi dice ma quella è pazza non ci vado mai più quindi bisogna essere pronti ad intervenire ecco ora incomincia questa cosa volevo essere chiaro perché più andiamo avanti più aumentano l'applicazione anche ieri era a Bologna un convegno dove c'era tanti i vostri colleghi che utilizzano e insomma di problemi ce ne sono non è che sia proprio tutto semplice dall'altra parte significa che funziona cioè che è un'efficacia perché se io do cose che non fanno niente ne posso dare quante ne voglio tanto non fanno né bene né male il fatto che dia queste risposte così anche molto evidenti comunque vuol dire che un'azione ce l'ha e più io sono andato ad aumentare l'azione cioè ho modificato la formulazione l'ho inserito in un protocollo più anche questi effetti collaterali si fanno veramente sentire ok però è segno che agisce allora perché una medicina allora la vita sulla terra è nata grazie all'energia messa a disposizione da reattori che erano ancora nucleari che erano ancora vicini alla superficie e e come vediamo noi siamo gli ultimi arrivati siamo appena arrivati su questa terra quindi c'è stato tutto un lungo percorso prima da arrivare a noi il primo a pensare che la vita che le forme viventi si fossero formate da materia non vivente è stata Aristotele poi negli anni 50 dei francesi hanno simulato le condizioni del brodo primordiale hanno dimostrato che è veramente possibile arrivare alla DNA partendo da un po' di amminoacidi messa lì nel brodo primordiale hanno preso il Nobel chiaramente però cosa è successo che le prime qui ci spiega tutto ma questo chiaramente non vi interessa le prime forme allora poi cosa c'è stato che a un certo punto per forme di vita che sono formate l'atmosfera si è riempita di ossigeno i primi batteri chiaramente erano anaerobici cioè vivevano solo in condizioni senza ossigeno quando c'è stata la catastrofe dell'ossigeno questi batteri qui se la sono vista brutta e hanno inventato i sistemi digerenti cioè delle nuove specie che avevano un vantaggio evolutivo perché riuscivano a mangiare quello che per gli altri non era ancora alimento e quindi si sono sviluppati questi batteri quindi si sono rifugiati in delle strutture poi chiaramente siamo arrivati ai mammiferi all'uomo ma l'idea iniziale è che noi rappresentiamo per loro uno spazio abitativo cioè un rifugio dove si sono infilati dentro perché con l'ossigeno non riescono a vivere e quindi come noi manteniamo pulita e ripariamo la casa questi ci mantengono in efficienza e sani ma non perché sono al nostro servizio ma perché vogliono vivere comodi ecco allora se io capisco come fare per mantenerli uno spazio confortevole questi batteri continuano a fare quello che fanno per loro interesse e non per mio interesse però io in cambio ci guadagno la salute quindi detta così sembra molto facile riuscire a essere sani perché in effetti strutturati come siamo siamo stati progettati veramente per essere sani perché abbiamo dieci volte più batteri che cellule e questi se noi glielo permettiamo per starci comodi loro ci mantengono sani quindi sembra molto facile essere sani chiaramente però io devo studiare la fisiologia del digerente perché se continuo a pensarla come un sistema postale svizzero capace di recapitarmi dove voglio ciò che voglio e le cose sappiamo oggi che non funzionano esattamente così questi erano concetti di medicine primordiali che suggerivano di mangiare occhi d'animale per problemi alla vista però oggi quando propongo il collagene per prima articolazione non sono andato tanto distante da questi concetti primitivi il collagene è una proteina enorme non può sicuramente arrivare all'articolazione se la mangi anzi addirittura so che i miei enzimi non riescono nemmeno ad attaccarla quindi sicuramente va nelle feci ok quindi io devo capire come funzioniamo da lì poi cosa si sono stati deviati diciamo da dall'introduzione di farmaci soprattutto quelli neurologici propositi come capaci di arrivare al cervello e di andare ad agire su complessi meccanismi cerebrali e la loro efficacia è stata legata a questa loro specificazione cerebrale ma non ci hanno fatto vedere se una volta che li assumo per bocca ci arrivano veramente quindi un conto è mettere nel patch clamp che è una tecnica che su una pipetta io prendo una porzione di neurone lì nella pipetta ci metto quello che voglio ci metto il farmaco al dosaggio che voglio tanto che non mi dà l'azione che mi interessa è un conto sapere se questa azione si ripresenta quando lo prendo per bocca cioè se questa quantità che ho messo è comparabile con quella che arriva in tutto il cervello quando lo prendo per bocca questi dati di istruzioni tessutali sono obbligatori nella fase di registrazione del farmaco ma non vengono pubblicati quando poi Costa Guidotti e Pina hanno dimostrato che gli SSRI presi per bocca questa non c'entra niente presi per bocca non arrivano al cervello mi sono chiesto e gli altri gli antiepilettici arrivano al cervello ho fatto una lunga ricerca in letteratura ho chiesto anche al presidente internazionale della Rega contro l'epilessia se lui aveva questi dati anche diciamo non pubblicati su riviste visibili questi dati non ci sono e allora mi è venuto il sospetto che forse anche questi farmaci in realtà presi per bocca agiscono sull'intestino e quindi ho cominciato a studiare il sistema digerente che è veramente un sistema molto più interessante del cervello stesso forse secondo me è l'organo più complesso che abbiamo perché abbiamo tutta una serie di recettori cioè quindi di telecamere che osservano quello che sta arrivando per dare risposte anticipatorie al cibo se io metto sulla lingua di una persona una soluzione zuccherina e poi gliela faccio sputtare ho un aumento di insulina nel sangue superiore che se gliela infilo in vena quindi appena la mia papilla gustativa percepisce lo zucchero incomincia a produrre insulina non deve arrivare nel sangue quindi noi abbiamo sviluppato tutte queste risposte anticipatorie che servono a proteggerci dal cibo perché il cibo è anche aggressivo nei nostri confronti quindi più riesco a prevedere i danni che mi può fare essere veloce nell'attaccarlo nel processarlo meno male mi fa e abbiamo tutti questi recettori del gusto anche nei doti biliari che nessuno ha ancora capito cosa servono però ci sono quindi è tutto ancora tutto molto da scoprire da capire quindi l'impianto del digerente è veramente un impianto molto complesso c'è tutto una trasmissione di segnali da questi recettori al cervello perché provveda a dare risposte rapide e processare più velocemente nel modo più giusto quello che sta arrivando lì dentro quindi questo è un meccanismo molto complesso di protezione dei danni che possiamo fare ed ecco che allora diciamo l'alimentazione non è solo alimentarsi è un modo per collochiare con questo impianto digerente sappiamo diciamo che allora le calorie tanto diffuse come il calcolo delle calorie degli alimenti non ci danno nessuna indicazione pratica perché la caloria che è una misura di energia ma in quel caso riferito al cibo non è energia è il calore che emette quando lo brucio quando dico che l'olio ha 6 3 calorie per grammo non ricordo mai il valore totte calorie per grammo se lo metto in una lampa d'olio cioè il calore che mette se lo brucio ma io nel mio corpo non lo brucio io non sono una lampa d'olio quindi la misura delle calorie è una misura come il colore dell'alimento cioè rispetto a quello che poi succede nel mio corpo non mi dà nessuna informazione noi abbiamo quindi un sistema che mi gestisce questo alimento che ho introdotto a seconda della sua capacità andrò verso un certo peso corporeo verso un altro peso corporeo quindi la mia risposta al cibo che determina quello che succederà del cibo non certo il calore che emette quando io ne brucio una certa quantità tutte queste operazioni sono gestite da questa popolazione di microbi che quando abbiamo finalmente scoperto anche quegli anaerobici che prima vedevamo sulle capsule di petri solo quelli che vivono nell'aria quando abbiamo usato le tecniche del DNA ci siamo accorti che abbiamo altri batteri anaerobici che prima non riuscivamo a vedere e quindi abbiamo visto che siamo farciti di questi batteri che sono dieci volte le nostre cellule che gestiscono tutti questi processi indispensabili per il nostro corpo e il direttore dell'istituto Genoma di Washington ha scritto quindi un genetista ha scritto che noi siamo maggiormente tipizzati del DNA dei nostri microbi rispetto a quelli delle nostre cellule quindi questi batteri ci caratterizzano anche per il loro DNA oggi che la genetica è così di moda non ce l'ho messa? ok lascia perdere qui la genetica così di moda noi vediamo che mentre la mia cellula ha 24.000 unità geniche che sono le parole del colloquio che c'è tra i miei tessuti tra le mie cellule cioè le quantità di parole che acquisiscono un vocabolario con cui queste cellule comunicano tra loro 24.000 unità geniche è un vocabolario molto povero con comandi molto semplici e non saremo riusciti con questo vocabolario a diventare così performanti come siamo diventati questi microbi mi mettono a disposizione 4 milioni di unità geniche con cui va ad assoperire anche i danni cioè quel difetto miogenico viene compensato da questi batteri da DNA di questi da unità geniche di questi batteri oltre diciamo a questo aspetto quindi che questi batteri ci gestiscono il nostro corpo cioè sono veramente la parte più importante di noi forse loro dicono noi stiamo ospitando poche cellule di questa persona che dice che ci ospitano in realtà sono questi batteri che ci ospitano c'è una chiaramente una dipendenza nutrizionale tra l'intestino e il cervello che è di una evidenza che è impossibile non vedere perché? allora il cervello funziona utilizzando dei neurotrasmettitori cioè delle molecole che vengono scambiate nelle fibre neuronali i quelli più importanti provengono da aminoacidi cosiddetti essenziali cioè che io non riesco a sintetizzare ma me li ricavo solo dalla dieta quindi se il mio intestino non mi ricava il tritofano io poi nel cervello non riesco a trasformarlo in serotonina e da lì in melatonina e se aumentano i ceppi disbiotici cioè quelli che noi abbiamo chiamato disbiotici cioè che fanno delle demolizioni diverse da quelle mie simbiotiche mi aumenta l'indolo e scatolo nelle urine il disbiosi test però meno tritofano mi entra nel cervello quindi se io ho una disbiosi sono ansioso perché ho meno serotonina nel cervello così come l'istamina viene ottenuta da cibi che contengono non l'istamina ma l'aminoacido istidina che viene decarbossilato a istamina se io ho un eccesso di ceppi batterici che mi trasformano l'istidina in istamina mangio certi alimenti e mi viene l'istamina nell'infiammazione quindi questo alimento mi dà fastidio perché mi sta dando una risposta istaminica eccessiva ma non è colpa dell'alimento è colpa che io ho tanti ceppi che mi producono istamina dall'istidina troppa istamina dall'istidina così un altro l'aminoacido essenziale è la tirosina che viene trasformata in tiramina e più va in tiramina meno tirosina entra nel cervello e quindi mi manca l'adrenalina la noradrenalina dopamina però questo meccanismo siccome questi aminoacidi competono tutti per la stessa porta d'ingresso è questo proprio grazie a questa competizione che noi siamo sopravvissuti perché quando l'uomo primitivo trovava il leone si spaventava produceva una disbiosi che è un processo che avviene in maniera molto veloce in questo modo riduceva il tritofano diventava ansioso ma l'ansia è acuta e positiva perché mi aumentava l'ingresso della tirosina quindi diventava adrenalina quindi più più forte noradrenalina più furbo più dopamina più agile quindi di fronte a un pericolo io venivo messo nelle condizioni migliori per affrontarlo il problema è quando poi questa da fase acuta diventa cronica cioè che io rimango qui perché lo renosto mai con il massimo di adrenalina sarei fortissimo furbissimo agilissimo ok quando sono in queste condizioni cosa succede che tra le cose che fa il tritofano mi controlla la sintesi di neuropeptide y che è il mio elettricista è quello che mi fa continuamente le riparazioni va a battere le piste di queste circolazioni neuronali vede i neuroni che funzionano male e li va a sostituire quindi ho una capacità di andare a riparare queste circolazioni continuamente di fronte a un pericolo la manutenzione la lascio perdere ma se continuo a stare senza manutenzione a un certo punto poi questi difetti di circuitazioni si fanno sentire e io ho dei sintomi quindi di fronte a un pericolo metto al massimo le mie possibilità ma non posso mantenerle a lungo tempo perché se no ne va dei miei processi di manutenzione qui c'era tutta l'animazione che ve lo spiego quindi l'ansia in fase acuta è positiva è un fattore positivo a questo punto io devo capire l'importanza di interagire con questo ecosistema costituito dalle mie poche cellule e dai miei tanti batteri che ci vivono dentro per mantenerlo nel modo migliore possibile e secondo me c'è un unico modo conoscere la fisiologia del digerente cioè conoscere come funziona se non mi invento delle diete puramente a fantasia e quindi invece devo capire come funziona tutte le cellule e devo mantenerlo nutrito per mantenere un ambiente confortevole a questi batteri tutte le cellule del digerente e tutti i mammiferi si nutrono solo di acidi grassi a quarta catena cioè questi sono gli unici loro alimenti se io non lo tengo questo sistema diventa debole l'ambiente non è più confortevole questi batteri si chiudono a spore e non fanno più niente per me io devo mantenerli nutriti quindi si sono a seconda delle diverse preferenze alimentari dei mammiferi si sono sviluppati degli impianti completamente diversi per ottenere la stessa cosa questi acidi grassi corta catena quindi partendo quindi partendo da alimenti diversi ottenere la stessa cosa e il carnivoro predatore mangia solo l'interiore guarda caso nella dieta GAPS c'è l'interiore degli animali questi cibi sono ricchissimi di grassi saturi il carnivoro predatore mangia solo carne grassa mangia un 60-70% di grassi c'ha uno stomaco che è un 70% dell'impianto c'è tutto stomaco lì dentro la lipasi la sua è potentissima li infila lì dentro nello stomaco taglia pezzettini grassi e c'ha gli acili grassi a corta catena per lui è facilissimo il necrofago che mangia la carne magra la mangia dopo che è stata putrefatta e digerita da batteri ambientali quindi quando noi mangiamo una carne troppo magra e poco putrefatta mangiamo una carne che nessun carnivoro sulla terra mangerebbe e noi non deriviamo da questi animali deriviamo da quelli che mangiano le fibre la frutta frutta verdura erba foglie non ruminanti chiaramente in questi animali lo stomaco sono un 20% dell'impianto però hanno un colon che è il 60% quindi quello che nel carnivoro è lo stomaco qui diventa il colon le fibre che raggiungono il colon trovano dei batteri che le fermentano e dalla fermentazione delle fibre ottengono questi preziosi nutrienti quindi i carnivori dai grassi nello stomaco le scigne dalle fibre nel colon questi animali hanno interesse a mantenere popolato il colon dei batteri capaci di fare questa fermentazione perché si avvantano quelli che noi chiamiamo disbiotici che danno fermentazioni diverse che possono essere produzione di gas come idrogeno e metano io ho reflussi gonfiori meteorismi eccetera eccetera che sono fastidi ma ho ridotto quelli capaci di ricavarmi dalle fibre quello che serve per mantenere nutrito il mio impianto digerente e quindi vado in sofferenza rendo debole questo impianto poi nel corso dell'evoluzione cosa è successo? che l'uomo ha deciso di introdurre in questo impianto cose che non doveva introdurre cibi che non doveva introdurre più aggressivi e quindi per ridurre il tempo di contatto ha accorciato l'intestino gli organi che consumano più energia sono il cervello e l'intestino riducendo l'intestino ha avuto più energia per il cervello da neandertal sapiens sapiens il cervello è aumentato perché si è accorciato l'intestino se no l'energia non ci sarebbe stata e però se andiamo a vedere adesso cos'è diventato l'impianto digerente dell'uomo vediamo che non è più quello della scimmia perché ha accorciato il colon dal 60% al 15% non è diventato quello del carnivoro anche se ha introdotto la carne perché lo stomaco è rimasto il 15% della scimmia non è andato verso il 70% del carnivoro cioè lo stomaco è rimasto piccolo da animale che mangia la frutta quindi lo spazio abitativo dei batteri che vivono nel colon capace di ottenere dalle fibre i nutrienti si è ridotto notevolmente e anche se mangiassimo la quantità di fibre che mangia la scimmia noi non riusciremo a ricavarne la quantità di nutrimento per le cellule del nostro digerente ha potuto far questo perché per la cibi che ha inserito ha inserito i grassi che prima non mangiava ha mangiato la carne grassa dell'animale della carcassa di animale morto che trovava perché non era capace di ucciderlo così come non era capace senza coltelli di ceramica e senza la cucina a gas a cuocere il muscolo di un leone adulto morto per noi era veramente impossibile mangiarlo quindi ha mangiato la carne più tenera più saporita che sono interiore quindi la stessa che mangia il predatore introducendo questi grassi ha imparato a ottenere dai grassi gli acidi grassi a corta catena digerire i grassi non è facile perché la lipasi è una soluzione acquosa acqua e olio non si mescolano quindi quando queste telecamere vedono arrivare i grassi fanno produrre i sali biliari che provocano una dispersione cioè trasformano il grasso in goccioline la lipasi in goccioline perché ci sia più superficie di contatto e così è possibile tagliarlo questo è quello che succede anche nel carnivoro predatore ma lì l'ambiente è fortemente demolitivo la lipasi è fortissima lì nello stomaco si formano questi nutrienti da noi invece questa emulsione finisce nel teno che abbiamo addirittura allungato per permettere alla nostra lipasi che è molto debole di avere il tempo di aggredire i grassi quando poi ci hanno detto di non mangiare più grassi perché aumenta il colesterolo ci hanno dato una bella botta perché noi abbiamo puntato molto a ottenere questi nutrienti dei grassi se no avremmo mantenuto un cono più lungo noi l'abbiamo ridotto così tanto perché abbiamo affidato tutto a questa nuova capacità che abbiamo imparato in millenni di evoluzione poi il colesterolo per l'80% non deriva nemmeno dalla dieta quando mi dici di non mangiare i grassi per il colesterolo ci rimanga abbastanza perplesso ma questi acidi grassi corta catena cosa sono? sono acido butirico burro acido acetico aceto acido propionico non ci sono non mi risulta nessun alimento acido valerico nella valeriana queste quattro molecole oltre ad avere un'azione nutritiva specifica hanno un'azione disinfiammante specifica tecnicamente si dicono sono inibitori dell'istone dell'acetilase questa classe di molecole vengono applicate come farmaci non queste chiaramente quelle di sintesi vengono applicate su patologie le più disparate dove però c'è di mezzo l'infiammazione e i farmaci anti-infiammatori in nostre idee i lochi per dar nomi commerciali sono derivati di sintesi dall'acido acetico e dall'acido propionico quindi se io l'acido butirico io non ci ho fatto farmaci ma è quello con l'azione maggiore sia nutritiva che disinfiammante quindi se io introduco questo acido butirico e l'alimento che ne contiene di più è il banale burro o un'azione nutritiva disinfiammante superiore senza effetti collaterali dei farmaci e dall'acido acetico io ricavo l'80% del colesterolo che mi serve e mi serve anche per produrre il salivigliare senza i quali io non riesco ad attaccare i grassi quando li mangio cioè se io non riesco a produrre il salivigliare che in parte li recupero anche il mio sistema intestinale me li recupera proprio che sono diventati indispensabili fate conto che questi erano processi che non avevamo che abbiamo imparato a svilupparli i milioni di anni di evoluzione quindi tutte cose che abbiamo imparato nel tempo però adesso se io non produco più salivigliari e il mio sistema intestinale non me li ricapa io divento incapace di aggredire i grassi il grasso è una molecola che nel mio corpo non va da nessuna parte mi viene affegato grasso ok perché non riesco a processarlo qui vediamo i fans da dove sono stati sintetizzati ma questo colesterolo che viene così fortemente criticato che bisogna abbassarlo sempre di più in maniera specifica senza il discorso è molto più complesso è di questo io ve lo rendo molto banale cioè bisogna stare molto attenti perché da questo colesterolo io mi ricavo la vitamina D che oggi viene proposta da integrare l'atto spiano nonostante l'integrazione molto spesso non aumenta molto più importante cercare di stimolarne la sintesi endogena che deriva dal colesterolo dal colesterolo arrivo al cortisolo che vediamo come importante per riuscire a dare una risposta allo stress per quello che vi ho fatto vedere prima però il cortisolo non ce l'ho io non riesco a dare una risposta allo stress e quindi lo stress mi fa male lo stress di per sé mi può far bene o mi può far male dipende da quanto cortisolo riesco a produrre in risposta e me lo ricavo dal colesterolo i sali biliari l'abbiamo già visto per le donne il colesterolo è fondamentale per il loro ciclo mestruale e a livello del rene vediamo che quello che controlla il riassorbimento dei sali del bicarbonato da cui abbiamo il controllo del pH del sangue allora io per avere un buon controllo del mio pH del sangue devo avere questo aldosterone se non ce l'ho io non riesco a controllare bene il pH del sangue quindi il modo per controllare il pH e tenere il pH giusto e comunque parte tutto dal colesterolo allora oggi questa guerra così specifica sul colesterolo senza andare a cercare i meccanismi ma non è questa la sede che ne voglio parlare vi dico solo che da quando si usano le statine che chiaramente negli studi iniziali quelli sponsorizzati erano la cosa più importante da usare dopo dieci anni che si usano i studi retrospettivi dicono che comunque le incidenze di patologie cardiovascolari non sono diminuite cioè uso la statina ma non mi cambia niente lo scenario clinico e non ce l'ho messa ok ci sono molte evidenze contrarie su questo di rabbassiamo comunque questo colesterolo non ci sono evidenze che grassi saturi provano le categorie vascolari non ci ho messo gli ultimi vediamo ok no allora e per esempio c'è una meta-analisi che va a vedere su 16.000 pazienti come i fattori di rischio delle patologie cardiovascolari al primo ricovero per il disturbo cardiovascolare siano presenti nel 15% dei casi quindi su una minoranza della popolazione c'è uno studio che fa vedere che questo su 150 meno di 150.000 pazienti quindi grossi numeri che fa vedere che l'incidenza di patologie cardiovascolari è maggiore nei soggetti con bassi livelli di colesterolo rispetto a quelli alti c'è uno studio cinese dove hanno preso circa 1.000 pazienti oltre degli 80 anni l'hanno seguiti per 4 anni nel frattempo in questo periodo ne sono morti 400 e hanno visto che a ogni aumento di colesterolo di un'unità c'era un aumento della probabilità di morte del 19% quindi se in quelli che avevano più di colesterolo c'era una maggiore probabilità di morte ok? quindi questi sono dati molto importanti che chiaramente non è questa la sede poi tornerò il 22 a Carpi per sviluppare questo discorso perché non è poi così banale va affrontato in maniera però per farvi capire che bisogna stare attenti a fare queste guerre contro i grassi contro il colesterolo così senza entrare nello specifico beh qui allora i dati vediamo diciamo l'azione dell'acido butirico è abbastanza ben documentata come dell'acido acetico che oltre a darmi il colesterolo il 50% mi si trasforma in butirico perché è quello più efficace ok quindi noi per capire cosa mangiare dobbiamo anche capire cosa è diventato il nostro sistema digerente perché l'è diventato e come fare per mantenerlo sano oltre che a nutrirlo devo capire che io ho trasformato un sistema molto robusto molto banale che mangiava solo le fibre l'ho costretto a imparare a processare cibi difficilissimi per cui non era progettato cioè l'ho fatto diventare un palestrato l'ho fatto diventare un motore di formula 1 che oggi fa delle cose strabilianti però devo rendere conto che devo fare non con un motore di una 500 ma di una formula 1 che non va con la benzina che metto una 500 cioè devo capire con cosa sto interagendo e chi è che mi ha portato dal sistema in alto a quello in basso l'esposizione è cibo complesso quindi io oltre che tenerlo nutrito devo andare a riportarlo a processare qualsiasi cibo perché intanto che un qualsiasi cibo mi dà problemi non è colpa del cibo è colpa di un mio intestino debole un mio sistema digerente debole e quindi è debole anche nei processi riparativi quindi come giustamente anche la dieta gas fa alla fine bisogna andare a rintrodurre tutto le dieta privazione nel lungo tempo mi indeboliscono io devo nutrire questo impianto ma riportarlo in palestra e il cibo è il suo allenatore e se sano non ci deve essere alimento che mi dà fastidio qualsiasi fastidio è colpa di un mio di 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 forte sono più forte sono i processi riparativi e quali sono? noi li abbiamo chiamati infiammazione nome che ci ha portato anni luce distanti da quello che in realtà sono quello che noi chiamiamo infiammazione in realtà sono processi di comunicazione tra i nostri organi oggetto della comunicazione e la riparazione il nostro corpo è fatto da cellule queste continuamente muoiono quindi noi in questo momento tutti noi abbiamo dei tessuti danneggiati perché delle cellule sono morte cioè quindi è una cosa fisiologica non è patologica noi viviamo continuamente con tessuti danneggiati perché qualche cellula è morta e abbiamo quindi un processo di riparazione di manutenzione che continuamente ci va a riparare questi danni i tessutali chiaramente abbiamo affidato questi compiti ai batteri e soprattutto quelli anaerobici del colon che gestiscono la produzione di operai che abbiamo chiamato citochine che vanno a riparare e quindi devo dire che siamo un po' curiosi come modo di ripararci perché le prime citochine che arrivano sul tessuto danneggiato cosa fanno? fanno un danno superiore a quello che c'era cioè c'è una crepa su quel muro e arrivano a citochine che ho chiamato pro-infiammatorie e vanno e mi portano via mezzo muro cioè fanno un danno enorme al danno iniziale perché poi arrivano quelle che tolgono via i detriti ma poi arrivano quelle anti-infiammatorie che vanno a ricostruire utilizzando le staminali che non mi mancano mai perché io continuo a produrre tra volte che mi servono e vanno a ricostruire quindi quando io sono sano sono sano non perché non mi succede niente ma perché sono capace a demolirmi a ricostruire se questi batteri che orchestrano tutte queste operazioni io non li tengo in un ambiente fortemente confortevole vado in quello che è infiammazione cronica dove continuo purtroppo a essere capace a produrre le prime citochine cioè quelle che vanno a demolire ma produco delle citochine anti-infiammatorie diverse da quelle capaci di andare a riparare quindi equivale a prendere la macchina non portarla più dal meccanico e poi non ci si stupisce che prima o poi qualcosa si rompa cioè quindi quell'infiammazione cronica è stata definita la madre di tutte le patologie da qui l'idea che se io evito di andare in queste condizioni riesco a risolvere sintomi di patologie che mi sembrano molto distanti ma che secondo me dipendono dal fatto che io ho smesso di essere capace di riparare il mio corpo queste citochine come faccio a mandarle in giro nel mio corpo questi batteri attraverso proprio una stretta un intimo colloquio tra la cellula nervosa interica e il battere producono delle navicelle spaziali che si chiamano mastociti delle cellule che le contengono insieme all'istamina queste navicelle vengono mandate in giro e io produco del muco perché se no queste non vanno via quando siamo raffreddati che ci colla il naso ci lacrimano agli occhi è perché io produco dei liquidi per veicolare queste cellule che produco solo per andare a riparare quindi sono legato a un processo infiammatorio quando arrivo sul tessuto danneggiato rilaccio una listamina che mi apre le porte delle membrane cellulari per far sì che le citochine vadano dentro e vanno a riparare e questi mastociti e da una vita che sappiamo che sono cioè un'errata produzione di questi mastociti che sono tutta una famiglia chiaramente di cellule non è una ci sono mille lavori in letteratura che ci mostrano che in tutte le patologie che voi sapete il nome in inglese andate su PubMed e scrivete Marcell è il nome della patologia ci sono lavori che dimostrano che c'è un'alterata produzione di questi mastociti quindi il concetto che in tutte le patologie c'è un errato processo infiammatorio è noto già da anni bisogna solo prenderlo in considerazione e come da anni è riportata casualmente che in diverse patologie neurologiche c'è un'infiammazione intestinale quindi c'è un intestino che è diventato debole c'è un processo di infiammazione di basso grado debole quindi è un'infiammazione cronica la cosa curiosa è che quindi che questi batteri che sono così importanti per me che mi gestiscono tutto e mi mantengono sano quando nascono non ce l'ho il mio intestino è completamente sterile e questa popolazione di batteri deve entrare il bambino piccolo si mette tutto in bocca perché sa che si deve infestare più si infesta meglio è perché poi lui seleziona quelli giusti da tenere e butta via quelli sbagliati da qui la teoria che le condizioni igieniche troppo elevate indeboliscono il bambino e c'è tutto un processo di maturazione post natale che è molto importante che viene attivato dal colostro quindi l'importanza dell'allattamento al seno il nostro colostro è quello più diverso dagli altri colostri perché l'uomo è l'unico mammifero che nasce con il cervello ancora immaturo quindi mancano tutto il sistema inibitorio tutti dei canali che si devono formare canali del GABA che si devono formare per questo il bambino del neonato è più eccitabile ed è facile per esempio avere convulsioni febrile e cose eccetera perché gli mancano tutta una struttura cerebrale e il colostro con le sue azioni specifiche a livello intestinale modula la maturazione del cervello del neonato gli altri i mammiferi quando nascono fanno crescere le ossa quindi usare il colostro dell'altro mammifero mi stimola se avessi i recettori dell'altro mammifero a crescere le ossa ma non mi stimola la maturazione del cervello quindi i colossi sono specie specifici non sono intercambiabili queste azioni mettono in evidenza già subito all'inizio l'importanza di questa comunicazione assi intestino cervello perché attraverso le azioni specifiche e nel nostro colostro è presente questa sieroproteina quando l'ho scoperta ma ne sono innamorato che è l'alfa-latalbumina perché è la proteina che non è in una pianta e mi dà un'azione disinfiammante intestinale utile molto buona ma specifica questa è la proteina che la natura ha selezionato per attivare il mio cervello il mio intestino e attraverso queste azioni specifiche il mio cervello primo esempio di assi intestino cervello ce l'abbiamo appena nati all'inizio questo sistema digerente si è formato ma non ha mai processato cibo perché veniva alimentato attraverso il cordone umbilicale il latte si va a sostituire al cordone umbilicale e noi subito pensiamo perché va a nutrire ultimo dei suoi compiti il suo compito è attivare questi processi di maturazione post-dantali ma soprattutto il compito più importante del colostro è far sì che questo corpo diventi autonomo nella produzione di anticorpi fattori di crescita quindi la membrana intestinale alla nascita è corrente permeabile perché non è ancora capace a produrre queste molecole che sono grosse proteine quindi deve permettere il passaggio dal latte materno di questi fattori di crescita e anticorpi poi questo colostro piano piano li insegna a formarseli non ha più bisogno di prenderli dal colostro della mamma e chiude la permeabilità cerebrale intestinale della membrana intestinale si forma queste famose tai janshion cioè giunzioni strette che sono specie di graffette che si formano solo in funzione del cibo cioè più io poi inserisco il cibo complesso più ho la necessità di proteggermi e quindi il cibo stesso che mi stimola la formazione di queste tai janshion se io faccio diete molto facile non uso cibi complessi io non ho bisogno di rendere veramente impermeabile la mia membrana intestinale cioè di chiudere mettere vicino queste cellule della membrana intestinale saranno più allargate verso il patogeno occasionale che mi entro ma li fanno passare quindi è proprio il cibo che stimola questa formazione nel mammifero che va in letargo il sistema digerente diventa come quello prima della nascita la membrana intestinale diventa completamente permeabile tanto non deve difendersi più da niente non entra più niente non deve produrre più succhi gastrici non deve produrre più niente nel momento che incomincia a mangiare il cibo in pochissimo tempo tutto torna come quando era fuori dall'etargo e la membrana intestinale viene stimolata a essere di nuovo ad essa una cellula vicino all'altra tenuta da queste tai janshion qui chiaramente poi facciamo tanti errori come l'aggiunta del ferro che è un fiammante ma non è il momento adesso di parlarne quindi quello che si vede è che tutto questo processo di maturazione segue due fasi una è l'allattamento dove comunque io inserisco un cibo molto debole e l'altro lo svezzamento che è andare in palestra cioè lo svezzamento è dire a questo sistema digerente ora incomincia a mangiare cibo più complesso e gradualmente impari a processarlo cioè ripeto in un periodo che è sette anni di vita del bambino lo svezzamento vado a ripetere quello che è stato milioni di anni durante l'evoluzione cioè rinserisco tutti gli alimenti possibili e immaginabili chiaramente se faccio errori questo sistema si intoppa diventa un'infiammazione cronica e questo mi può dare problemi questo è l'annoso problema dei vaccini il vaccino di per sé può essere utile o non utile ma cioè questo non è il vero problema è il problema che non faccia male perché il cocktail di vaccini insieme ai dati troppo presto mi fanno partire un processo di infiammazione molto elevata se l'intestino il sistema intestinale è capace a gestirlo non succede niente se è un po' debole mi viene un rialzo febbrile come molto spesso avviene se è tanto debole mi si crea un danno permanente ok quindi non è di presse il vaccino quanto bisogna abbattersi per darli in maniera sicura cioè invece che a tre mesi riportarli a sei mesi otto mesi come era prima seguire i criteri di esclusione nei protocolli di studio sulla sicurezza dei vaccini che se ci sono stati febbrili uso di antibiotici così il soggetto non entra nello studio di sicurezza questi criteri vanno applicati alla popolazione così come avviene per il resto dei farmaci il vaccino è l'unico farmaco per cui non si applica nella popolazione i criteri di esclusione degli studi sulla sicurezza ok il riasi ci dimostra come questa infiammazione intestinale possa andare in giro a colpire tutti gli organi da qui l'infiammazione è quella debole di basso grado quella cronica quindi entrare in infiammazione cronica fa sì che nel mio corpo partano queste citochine che mi vanno a demolire tutto perché divento incapace di riparare mi vengono a mancare quelle capaci a ripararmi ok e si va sui pochi complessi ok ok questo cioè niente qui è un discorso che fa molto lungo per dire che noi queste nozioni in letteratura ce le abbiamo da anni cioè non c'è niente di nuovo dobbiamo semplicemente andare a leggere quello che c'è in letteratura questo sono quello che già sappiamo su questa alterazione di produzione delle citochine e qui vediamo come questo è un articolo molto che vi consiglio di leggere perché è veramente molto chiaro esplicito perché gli immunologi e questi concetti anche se ne abbiamo uno qua presente se li sono tenuti molto per loro non l'hanno resi di facile dominio per gli altri per capire queste cose ho fatto una fatica tremenda come funzionano questi processi del sistema immunitario questo vediamo bene come questa è la risposta di queste citochine in fase acuta che se io continuo sono qui nel rosso sono capace di 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 ma se invece vado in infiammazione cronica invece di produrre queste giuste produco quest'altra e queste non mi riparano posso avere tutte le staminali che voglio che ce l'ho ma se non ho i muratori che ne prendano e me le mettono a posto io divento incapace di ripararmi quindi questo è l'unico articolo ben chiaro dove spiega la differenza tra infiammazione acuta e infiammazione cronica sappiamo che questa infiammazione danneggia i tessuti produce danni noi sappiamo che tre giorni dopo un trauma cronico collassa la membrana intestinale si formano dei buchi anatomici strutturali nella membrana intestinale chiaramente in elevata permeabilità queste citochine che arrivano dall'infiammazione di parte del cervello dall'intestino mi produce dei danni di struttura così come è riportato che queste citochine quando arrivano nel cervello danno danni anatomici strutturali cioè mi bucarellano il cervello un cervello bucarellato sicuramente non può funzionare quindi questa è la vera causa di tutti i sintomi c'è danni anatomici strutturali e questo ci fa capire come quindi questo gestore di questi processi infiammatori diventa la chiave di svolta per patologie che ci sembrano molto distanti ma che invece hanno una causa comune queste infiammazioni che non sono riuscite a gestire che va in giro e mi fa danni oggi c'è una elevata sette realtà nelle ricerche non solo il neurologo e il gastroenterologo ma abbiamo il neurologo che studia l'epilessia il neurologo che studia il Parkinson il neurologo che studia l'Alzheimer nessuno va a leggere quello che dice il vicino di banco tutti scrivono questa cosa in tutte le patologie neurologiche ormai sarà 10-15 anni in letteratura c'è questo ruolo di questa infiammazione come non fattore predisponente ma come causa fisio-patogenetica cioè il sintomo dell'Alzheimer del Parkinson la crisi epilettica è provocata da questa infiammazione che ha colpito aree cerebrali chiaramente diverse sulla base di quelle cioè si rompono prima quelle più deboli quindi ognuno è predestinato se non riesce a gestire questa infiammazione a produrre una serie di sintomi che dipendono da quelle che sono le sue vulnerabilità che sono anche genetiche ma non vuol dire che c'è il gene di quella malattia il colore degli occhi non abbiamo il gene abbiamo un corredo genetico quindi noi ci portiamo un'architettura del nostro corpo che ridichiamo dai nostri genitori quindi se poi si sommano le stesse aree deboli noi siamo più vulnerabili a produrre sintomi sulle nostre aree deboli ma queste si manifestano solo se io divento incapace di compensare ai miei limiti genetici cioè vuol dire che questi batteri questi miei manovali quelli che fanno riparazione li ho mandati in ferie fin tanto che li permetto di lavorare anche se ho le mie vulnerabilità genetiche non arrivo a avere il sintomo abbiamo i farmaci che sono studiati per arrivare nel cervello abbiamo evidenze che in realtà hanno delle azioni disinfiammanti intestinali ecco e qui abbiamo sempre il riasi che dimostra che se infiamma l'intestino dei topolini con un olio urticante il crotontiglio quindi banalissimo olio urticante questi topolini sottoposti al modello di epilessia producono una maggior quantità di crisi dell'animale a cui non ha infiammato l'intestino quindi se lo disinfiamo alzo la soglia convulsiva che non vuol dire spegnere le crisi ma alzare la soglia epilettogenica cioè rendere meno probabile l'evento questa sieroproteina l'alfa-latabumina è stata studiata da anni quindi le sue azioni intestinali sono arcinote questo è un dato abbastanza curioso perché mi va a vedere proprio che va ad agire là dove mi interessa cioè mi aumenta la produzione di citochine antinfiammatorie corrette quindi mi rimette in condizioni di avere le citochine antinfiammatorie che mi vanno a riparare quindi mi risolve mi fa uscire dall'infiammazione cronica che vuol dire che è incapace a riparare e questo è quello che noi stiamo vedendo anche se come ho detto prima non è così poi banale avere risultati ma che sia possibile ottenerli in patologie molto distanti proprio per cui in realtà io non vado a risolvere il sintomo ma vado a ripristinare una capacità di riparazione mi fa uscire a tutti i guai perché io sono sano quando cioè non ho i guai quando sono capace a ripararmi quindi questa elevata capacità di ripristinare un corretto rapporto di queste citochine quindi di farmi riprodurre quelle sane mi rimette in moto i miei manutentori e quindi qualsiasi sintomo avevo io riesco a superare perché vado sulla causa del sintomo che è derivato dall'incapacità di andare a riparare questo è inutile che vi faccia vedere voi che lo sapete meglio di me invece in questo concetto che comunque è presente anche cioè non è che sono prima a dirlo o prima l'abbiamo visto nella GAPS cioè comunque è proprio noi dobbiamo riportare far diventare nuovo forte l'intestino e tutto il digerente per riattivare chi continuamente ci ripara e questa è quella che io chiamo l'una medicina cioè un'unica cura che mi risolve diverse cose grazie per l'attenzione applausi applausi